L'orgasmo è la risonanza nel corpo fisico del piacere che dà l'unione spirituale. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info L'orgasmo è la risonanza nel corpo fisico del piacere che dà l'unione spirituale. L'orgasmo è la risonanza nel corpo fisico del piacere che dà l'unione spirituale. L'orgasmo è la risonanza nel corpo fisico del piacere che dà l'unione spirituale.